Taniari bentornati nel mio canale nel video precedente relativo ai costi in analisi sui consumi elettrici dei fornetti F1 compreso vi avevo promesso che avrei approfondito quindi oggi sono qua per mantenere la mia promessa e vi darò i dati perché ho fatto una pizzata da 6 pizze e sono andato a prendere a segnarmi tutti i dati dei consumi del nostro F1 quindi dal preriscaldamento quindi raggiungimento temperatura i costi per fare quattro pizze i costi per fare sei pizze andremo poi a fare alcuni piccoli ragionamenti per quanto riguarda quello che abbiamo speso per fare queste sei pizze quindi se questo tema vi interessa seguito questo video il barba vi saluta ricordatevi di iscrivervi alla prossima ciao Gnari riprendiamo molto brevemente la tabella dei consumi che abbiamo visto anche nel video precedente quindi ho rilevato un consumo combinato delle due resistenze superiore e inferiore di 2600 watt solo resistenza superiore 1865 solo resistenza inferiore 917 watt ci ho detto andiamo a vedere quanto ci costa la nostra pizzata ipotizzando un prezzo kilowattora dell'energia elettrica di 0,85 centesimi per il riscaldamento ho impiegato 18 minuti consumando 1,52 kilowattora spendendo circa 50 55 centesimi i dati combaciano con la misurazione fatta nell'altro video per la cottura di quattro pizze ho impiegato 30 minuti ho consumato 1,72 kilowattora e ho speso circa 60 centesimi ho cotto poi altre due pizze impiegandoci ulteriori 20 minuti consumando 0,81 kilowattora e spendendo circa 30 centesimi cosa possiamo dedurre da questa tabella che nella parte di riscaldamento il consumo al minuto è al massimo e il consumo al minuto di kilowattora va sempre a ridursi man mano andiamo a cuocere più pizze perché naturalmente il forno sta chiuso di più concludendo per non annoiarvi ho fatto quindi quest'ultima tabella facendo varie ipotesi quindi abbiamo un'ipotesi con il prezzo dell'energia a 35 centesimi kilowattora finito un'altra ipotesi con 0,70 quindi il doppio onestamente in questo momento non so quanto possiamo arrivare e un'ipotesi di un euro al kilowattora ipotesi spero che non si verifichi mai quindi vediamo semplicemente che con il prezzo a 35 centesimi per fare quattro pizze ho speso 28 centesimi a pizza per fare sei pizze ho speso 24 centesimi a pizza con il costo ipotizzato 70 centesimi kilowattora per fare quattro pizze ho speso 57 centesimi a pizza per farne sei ne ho speso i 47 di centesimi con l'ipotesi che spero non si avveri mai cioè costo l'energia elettrica di un euro al kilowattora per fare quattro pizze ho speso 0,81 centesimi a pizza e per fare sei pizze ho speso 0,68 centesimi a pizza questo conteggio è fatto sommando il costo del pre riscaldamento ai costi che ho sostenuto successivamente a questo punto spero di avervi dato delle informazioni utili il barba vi saluta e alla prossima ragazzi